Nel mondo musulmano e arabo, per anni abbiamo dato per assodato che gli Stati Uniti sono fondamentalmente al servizio di Israele e che l'America è controllata dai sionisti e che il governo degli Stati Uniti farà qualsiasi cosa, non importa quanto costi, per salvare e proteggere Israele. Credo che anche molti israeliani la pensino così, ma una valutazione obiettiva e razionale della situazione dipingerebbe un quadro molto diverso. Credo che gli israeliani debbano riconoscere, se non lo fanno già, che gli Stati Uniti non sono il vostro salvatore, ma il vostro peggior nemico. Gli USA, che lo sappiate o no e che i musulmani lo capiscano o no, stanno in realtà trattando Israele nello stesso modo in cui trattano tutti gli altri, con totale disprezzo. Insomma, stanno sostenendo Benjamin Netanyahu, che è il più impopolare, il più disprezzato, il più corrotto, il più incompetente, il più psicopatico, delirante e dispotico governatore che Israele abbia mai avuto. Ed è responsabile del prolungamento e dell'aggravamento del conflitto con i palestinesi. Netanyahu ha fatto carriera distogliando l'attenzione dalle preoccupazioni interne, che contano davvero per i cittadini israeliani, che contano di più per i cittadini israeliani. Parlando all'infinito di sicurezza e della presunta minaccia che Israele deve affrontare. E naturalmente i problemi interni di Israele non fanno che peggiorare. E il conflitto e la situazione della sicurezza peggiorano. E l'America lo adora. Non si preoccupano dei problemi interni di Israele, non si preoccupano dei problemi socio-economici, delle preoccupazioni socio-economiche degli israeliani, dell'alto costo della vita, della disparità tra ricchi e poveri. Non si preoccupano della corruzione nella società israeliana e così via. E queste sono le questioni che interessano di più ai cittadini israeliani, agli elettori americani, agli elettori israeliani. Ma per quanto riguarda l'America, l'unica cosa che conta è continuare la lotta e il conflitto. È l'unica cosa che interessa. Non si preoccupano del benessere, della stabilità di Israele, della sicurezza dei cittadini israeliani. I cittadini israeliani vogliono trattare Israele come un paese vero e proprio e si aspettano che si comporti come un paese vero e proprio. E pensano che le loro vite e le loro preoccupazioni debbono avere importanza come in un paese vero e proprio. Ma per gli Stati Uniti, Israele è uno strumento politico, quindi la popolazione israeliana non conta per loro. E ciò che conta per la popolazione israeliana non conta per loro. Il rapporto con gli Stati Uniti è stato incredibilmente dannoso per Israele, nonostante ciò che tutti pensano. Ha impedito a Israele di diventare una società normale. Ora, parte di questo è dovuta alla diaspora degli ebrei negli Stati Uniti, che come la maggior parte delle comunità della diaspora sono generalmente molto più radicali e ideologici di quelli che vivono in patria. E questa comunità della diaspora, in Occidente, in particolare negli Stati Uniti, fa un'enorme quantità di denaro sfruttando l'attaccamento emotivo degli ebrei a Israele, facendoli finanziare le lobby pro-israeliane e così via, il che rende per lo più molto ricchi una manciata di ebrei americani. Ma è soprattutto guidata dagli interessi politici degli Stati Uniti e dall'utilità di Israele come veicolo per un flusso infinito di denaro alle aziende americane della difesa e come una sorta di centro di ricerca e sviluppo offshore per il Pentagono. Gli Stati Uniti non vogliono e non hanno mai voluto che Israele fosse in pace con i suoi vicini. Non hanno mai voluto che Israele si integrasse nella regione. Non è questa la funzione di Israele per quanto riguarda l'America. A loro non importa che questo sia l'unico modo per far sì che Israele diventi una società normale. Non importa se questo è nell'interesse della popolazione israeliana o meno. A loro non importa. Vi stanno usando. Stanno usando voi, gli israeliani, vi stanno sfruttando. Gli americani, l'Occidente, vi stanno usando. Ed è assolutamente contro gli interessi del vostro popolo. Ovviamente l'unico modo per Israele di progredire come società è quello di staccarsi dagli Stati Uniti e dall'Occidente e di integrarsi adeguatamente nella regione. Finché non lo faranno, nessuna delle loro questioni interne sarà mai risolta. Nessuna sarà mai affrontata. Finché non lo faranno, non potranno fare altro che essere uno strumento politico degli Stati Uniti, perdendo così sia le loro vite che le loro anime in questo processo. Voglio dire, vi stanno facendo fare cose che vanno contro le vostre convinzioni di ebrei. Vi fanno fare cose che vanno contro la vostra stessa umanità. Vi spingono a fare cose che vi fanno vedere al mondo come mostri. E più specificatamente, siete visti come mostri dalle persone che si trovano in quella parte del mondo in cui siete. Israele dovrebbe essere un paese del sud globale. Dovrebbe essere un paese del Medio Oriente. Dovrebbe condividere i valori e le priorità del sud globale del Medio Oriente. Ma poiché è stato un progetto colonialista occidentale fin dall'inizio e poiché continua a operare esclusivamente come progetto colonialista. È visto come, è percepito e vede se stesso come una nazione occidentale. E non sarete mai in grado di essere un paese normale andando avanti così. L'unica vera strada da percorrere è la soluzione di un unico Stato. Incorporare tutti i territori occupati e tutti gli abitanti di quei territori in un unico paese con uguali diritti di cittadinanza. Certo, questo significherà che Israele avrà una maggioranza palestinese e non sarà più un cosiddetto Stato ebraico, ma potrà diventare una società normale e sana. Voglio dire, se sionismo significa sostenere il diritto degli ebrei a vivere in Palestina quando nessuno ha mai detto che non hanno questo diritto, nessuno ha mai avuto problemi a riguardo, di certo non i musulmani. Ma se il sionismo significa supremazia etnica ebraica, beh, voglio dire, quale persona civile approverebbe una cosa del genere nel ventunesimo secolo? Ci sono sempre stati ebrei in Palestina durante l'impero musulmano e c'erano ebrei in Palestina quando sono arrivati i sionisti e i sionisti hanno combattuto contro di loro. Ma se volete che il vostro paese sia normale, allora dovete tornare indietro nella storia e imparare nella storia di quegli ebrei palestinesi che sapevano dare d'accordo con i loro vicini e che vivevano pacificamente con gli arabi, che vivevano pacificamente con i palestinesi, gli ebrei che giustamente vedevano i sionisti come colonizzatori e come persone che sconvolgevano la loro società, perché quegli stessi sionisti e quella stessa ideologia stanno sconvolgendo la vostra società oggi. Agli israeliani non può piacere il loro paese così come è ora. È impossibile che gli piaccia. Sono esseri umani. Odiano Netanyahu e la maggior parte di loro incolpa il governo per ciò che sta accadendo in questo momento. E ha ragione. Ma guardate quanto è in contrasto con la narrazione americana. Guardate quanto la narrazione americana sia in contrasto con il modo in cui gli israeliani stessi percepiscono la narrazione occidentale. Dovete smettere di lasciare che l'America parli per voi. Vi stanno distruggendo. La prospettiva dell'israeliano medio è diametralmente opposta a quella degli americani. Voglio dire, guardate quei ragazzi al rave quando c'è stato l'attacco di Hamas e ricordate che in Israele il servizio militare è obbligatorio. Ciò significa che tutti i ragazzi presenti a quel rave sono stati prima o poi i soldati dell'IDF e che tutti quei ragazzi hanno un addestramento militare, ma non sono soldati. Insomma, anche i soldati attivi dell'IDF non sono soldati. L'IDF dal 2023 non è l'IDF del 1956 o del 1967 o anche degli anni 80. Queste persone non vogliono essere guerrieri. Vogliono solo vivere la loro vita. Ma l'America non glielo permette. Voglio dire, guardate gli israeliani su TikTok o Instagram. Cosa pensate preferirebbero fare nella loro vita? Pensate che siano in grado di farlo? Sono così impegnati nel sionismo da voler dedicare la loro vita a duri e stoici esercizi di addestramento tutto il giorno all'abnegazione, alla disciplina e così via per fare di Israele una nazione guerriera o preferirebbero essere a Dubai. Lo sapete voi e lo so io. Se potessero scegliere tra la strada che Netanyahu e gli Stati Uniti vogliono per loro, che è quella di lotte e conflitti senza fine, di spargimenti di sangue, se potessero scegliere tra questa o seguire la strada di una soluzione con un solo Stato che inonderebbe il paese di investimenti del Golfo e di denaro del Golfo e permetterebbe loro di sdraiarsi sulla spiaggia, fumare hashish tutto il giorno, cosa pensate che preferirebbero? Israele deve staccarsi dagli Stati Uniti. Deve iniziare a guardare ai paesi BRICS per trovare soluzioni diplomatiche e risolvere questi problemi insieme al Sud globale. Inoltre deve inviare questo messaggio alla diaspora e cercare di deradicalizzare queste persone e fermare l'afflusso di fogli estremisti coloni nel loro paese. È una forza destabilizzante nella vostra società. Come sempre i musulmani e gli arabi offrono agli ebrei una via d'uscita dallo sfruttamento e dalla violenza dell'Occidente, perché l'Occidente non fa altro che questo. Se ci pensate, se ci riflettete bene, non potete essere così sciocchi da non capirlo. Abbiamo sempre sentito parlare di quanto siano intelligenti gli ebrei, quindi sicuramente capite che l'Occidente vi sta gettando nella violenza, nella sofferenza e nel caos. Vi stanno solo usando. Ma gli arabi e i musulmani vogliano davvero pace e stabilità, ma con giustizia ed equità. Voi credete alla giustizia e nell'equità, non è vero? Volete pace e stabilità, non è vero? Ebbene, l'unico modo per ottenerla è quando vi staccherete dagli Stati Uniti. Onestamente, credo che in Israele si dovrebbe promulgare una legge contro la doppia cittadinanza. Non permettete a nessuno di essere cittadino di Israele pur avendo un passaporto di un altro paese. In questo modo si può individuare chi è veramente coinvolto nella società e chi no. Credo che almeno il 20% degli israeliani, l'ultima volta che ho controllato, credo che circa il 20% degli israeliani abbia la doppia cittadinanza. E circa la metà di questi vive in Israele solo a tempo parziale. Sono sionisti stagionali, molto probabilmente saranno, come dire, i coloni che sono fondamentalmente una sorta di SS ebraiche. Non volete persone di questo tipo nella vostra società, ma ci sono anche sionisti stagionali a tempo parziale. Ci sono anche gli uomini d'affari che hanno interessi divisi. È necessario eliminare queste persone. Sono destabilizzanti e certamente non dovrebbe essere permesso di servire il governo se si ha la doppia cittadinanza. Come si può essere sicuri degli interessi di quale paese stanno servendo? In particolare sono israeliani americani. Se hanno la doppia cittadinanza di Israele e degli Stati Uniti, quale paese stanno servendo? Voglio dire, quante persone nel governo o altrove, ma soprattutto nel governo, quante di queste persone sarebbero disposte a sacrificare il loro passaporto americano per Israele? Non molti, ve lo assicuro. Beh, questo dimostra una realtà divisa e questa è almeno una delle ragioni per cui c'è così tanta corruzione nel vostro governo. Perché la maggior parte delle persone serve gli interessi americani. La maggior parte dei politici serve gli interessi americani. Gli interessi europei. Io e lei sappiamo che Netanyahu ha il 95% di probabilità di andare in pensione in Florida piuttosto che in Israele. Quindi, se riuscite a trovare persone che si impegnano davvero a fare Israele un paese normale, persone che sono sinceramente interessate al benessere del popolo israeliano, beh, penso che vedreste la pace molto prima. E questo è ovviamente nell'interesse di Israele. Quindi dovete avvicinarvi agli arabi, ai musulmani e liberarvi dell'essere solo uno strumento americano in Medio Oriente. Perché è questo che siete, per come vi trattano. Voglio dire, non avete mai notato che i più entusiasti sostenitori del sionismo in Occidente e negli Stati Uniti, tra i non ebrei, sono esattamente quegli stessi gruppi di persone che storicamente sono stati più antisemiti. Perché i sionisti originari hanno ricevuto il sostegno dei segmenti dell'Europa che più odiamano gli ebrei? Tutti sanno che questo non è un segreto e che non sono cambiati. Gli ebrei occidentali non sono cambiati. Gli stessi gruppi antisemiti non sono cambiati. Sono sempre stati così. All'epoca sostenevano il sionismo perché volevano che gli ebrei non fossero in nessun altro posto se non accanto a loro. E la pensano allo stesso modo anche oggi. È il loro cosiddetto sostegno a Israele in questo momento e a antisemita come lo è sempre stato. Vogliono vedervi in conflitto. vogliono vedervi nell'infelicità. Vogliono vedervi nell'insicurezza. Vogliono che siate dipendenti e sottomessi. Non è altro che odio. Ma voi vi siete ingannati pensando che fosse amore. Vi siete ingannati pensando che fosse amicizia. Quando invece sono i vostri peggiori nemici. Sono le stesse persone che vi hanno perseguitato per secoli e vi perseguitano anche adesso. Solo che lo fanno in modo più intelligente. E le stesse persone che storicamente sono state le più accoglienti e le più gentili con voi. Sono le stesse con cui vogliono che siate in guerra. Vi dico che vi stanno prendendo in giro. Dovreste essere più intelligenti di così. Non vogliono il bene per voi. Non l'hanno mai voluto. Voglio dire cosa avete ottenuto di buono. In realtà centinaia di migliaia di vostri figli e figlie in questo momento sono stati chiamati per andare al massacro dall'America e dai loro agenti sponsorizzati nel vostro governo. Centinaia di miliardi di dollari sono stati spesi per rendervi più insicuri e per riempire le tasche dei vostri politici corrotti. Mentre gli israeliani medi stanno lottando con il costo della vita e a nessuno importa. Ai vostri politici non importa e non importa a chi lavorano, cioè agli Stati Uniti. Vi odiano e ci odiano, lo sappiamo entrambi. Dovremmo essere più o meno dalla stessa parte, ma continuano a farvi fare cose che ci rendono impossibile stare dalla vostra parte. È questo il trucco e voi continuate a cascarci. Non abbiamo un problema con gli ebrei, non l'abbiamo mai avuto. I musulmani non hanno problemi con gli ebrei e la storia lo dimostra, ma le persone che hanno un problema con gli ebrei sono i maggiori sostenitori del sionismo e noi abbiamo un problema con il sionismo e dovreste farlo anche voi, perché è un complotto che è contro di voi e non per voi. Se ci pensate, vi stanno ingannando in ogni modo. Gli Stati Uniti non hanno sconfitto i nazisti e liberato i campi di concentramento. È stata la Russia a farlo. Alcuni dei maggiori finanziatori dei nazisti erano in America e dopo la guerra hanno portato qui tutti i migliori nazisti nell'operazione Paperclip. E voi lo sapete, li hanno portati qui dopo la guerra per aiutarli nella scienza, nell'ingegneria, nello sviluppo e così via. Tutti lo sanno. E proprio ora stanno sostenendo un esercito in Ucraina che sventola letteralmente la svastica combattendo contro il paese che ha posto fino all'olocausto e tu li sostieni. Vedete quanto siete confusi? Non vedi come non sono mai cambiati? Come l'Occidente non è mai cambiato? Non vedete come vogliono che siate contro chiunque vi abbia mai dato rifugio, chiunque sia mai stato decente con voi? E pensate ancora che questo sia sostegno? Pensate ancora che questo sia amore? Pensate che questa sia amicizia. Vi stanno usando e vi stanno rovinando perché non smettono mai di essere antisemiti. Questa è la verità. Non smettono mai di essere antisemiti. Quindi il mio messaggio per gli israeliani è smettetela di farvi prendere per il naso dagli antisemiti e fate la pace con i semiti, con gli arabi, con i musulmani e liberatevi una volta per tutti e degli Stati Uniti, dall'Europa e dalla manipolazione sionista antisemita, perché sarà la morte del vostro paese, sarà la morte della vostra società e come ho detto sarà la morte delle vostre anime. Perché per fare ciò che gli Stati Uniti vogliono che facciate dovete fare cose che vanno contro il vostro sistema di credenze, dovete fare cose che sono contro la vostra moralità, dovete fare cose che vanno contro il vostro senso di umiltà e sta distruggendo la vostra reputazione in tutto il mondo e soprattutto nel sud globale che è il luogo del futuro. Dovete quindi smettere di farvi manipolare dall'Occidente, dovete smetterla di farvi manipolare dagli Stati Uniti e di farvi manipolare dalle persone che prendono i soldi dagli Stati Uniti e si riempiono le tasche con essi. Stanno sacrificando i vostri figli, stanno sacrificando i vostri figli e le vostre figlie, stanno sacrificando la qualità della vostra vita e il vostro futuro solo per riempire le loro tasche. Tutti sanno che Netanyahu non sta facendo altro che cercare di salvare la sua carriera politica. Non importa quante vite debbono andare perse. Palestinesi o israeliani, a lui non importa e nemmeno all'America. È quindi necessario svegliarsi e iniziare a usare il grande cervello di cui tutti sentiamo parlare.